Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. In A11 in direzione Firenze troviamo traffico rallentato tra il Bivio A11, A12 e Alto Pascio. In A1 in direzione Bologna si viaggia incolonnati per un incidente tra Calenzano e il Bivio A1 variante. In Fipili in direzione Firenze traffico rallentato tra Lavoria e Santa Croce sull'Arno. Per Lavori domani notte e martedì notte sarà chiuso lo svincolo di Valdarno in entrata in direzione Roma in orario 22.6. Nello stesso orario domani notte sarà chiuso l'allacciamento con la A11 in direzione Pisa. In A11 per Lavori nelle due notti di martedì e mercoledì in orario 22.6 sarà chiuso l'allacciamento con la A1 in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!